Come sapete questo canale si occupa di fare informazione sull'organizzazione dei testimoni di Giova e allora abbiamo questa notizia, abbastanza importante credo. L'amministratore statale di Oslo, Vichen, ha deciso che la comunità religiosa dei testimoni di Giova verrà negato il sostegno statale per il 2021. Perché? Per quale motivo? A causa della loro pratica di esclusione, cioè l'ostracismo. In un messaggio sul loro sito web, il procuratore generale scrive di aver riscontrato, dopo mettiamo tutti i link in descrizione ovviamente, di aver riscontrato diverse violazioni della legge della comunità religiosa da parte dei testimoni di Giova. Dopo aver ricevuto avvertimenti dai precedenti membri in merito all'esclusione e all'espulsione dei membri, il Ministero dell'Infanzia e degli Affari Familiari ha chiesto all'amministratore statale di Oslo, Vichen, di rivedere le dichiarazioni e le pubblicazioni dei testimoni di Giova. In questa revisione l'amministratore statale ha scoperto diverse violazioni della legge sulle comunità religiose, si afferma. La pratica di esclusione significa che ai membri viene negato il contatto con membri non iscritti. Ciò significa che l'amministratore statale è in conflitto con il diritto di recesso gratuito e la sezione 2 della legge sulle comunità religiose. La comunità religiosa si apre anche all'esclusione dei minori battezzati, ciò significa che i bambini possono essere esclusi se infrangono le regole della comunità religiosa. Crediamo che questo sia un controllo sociale negativo e violi i diritti dei bambini, scrive l'amministratore dello Stato. Abbiamo ritenuto i reati sistematici, intenzionali, e abbiamo quindi scelto di rifiutare i sussidi, scrive l'amministratore dello Stato. Questo può creare un precedente per altre nazioni, altri stati che analizzando per bene in fondo dettagliatamente la letteratura della Torre di Guardia può evincere la messa in atto di misure che vanno contro l'umanità, ecco, che vanno contro l'umanità, il sentire umano. Se da una parte c'è la scomunica, la disassociazione dal punto di vista scritturistico, questa esasperazione nell'allontanamento, nel rimuovere il malvagio che è fra di noi, ecco, porta a mettere appunto in atto degli atteggiamenti che poco hanno a che fare con quello che fanno gli umani fra di loro, cioè il rispettarsi, certamente non condannare alla morte sociale, come appunto avviene normalmente prendendo alla lettera le indicazioni della società Torre di Guardia. Questo si attua in maniera diversa, certamente a seconda delle congregazioni, non tutte le congregazioni sono uguali nel mettere in atto la cosiddetta disciplina di Geova, che prevede questo ti amo, quindi non ti parlo più, perché così tu possa riflettere e tornare a Geova. Ecco, questo non può essere compatibile con un sistema civile, al quale ci siamo dati, perché a tutti gli effetti si tratta di mettere allora in pratica un ricatto psicologico con conseguenze che possono essere anche letali per la psiche della persona che subisce questo. Bene, hanno fatto a Oslo e a Wiken. Speriamo che sia veramente un segnale per cui la società possa arrivare appunto a modificare queste misure, che dall'altro, altro scopo, noi sosteniamo, chi fa informazione non hanno, che se non quello di preservare l'integrità, evitare la emorragia di membri da questa congregazione, i cui membri appunto però stanno sempre più aprendo gli occhi, grazie al web. Grazie sempre dell'ascolto.